Ciao ragazzi, salve a tutti e bentornati in questo video dove vi andrò a mostrare tutta la soluzione del contest che abbiamo creato oggi. Devo essere sincero, è stato un esperimento di cui non sono stato molto felice, anche perché ho notato che il premio è stato riscattato, ma che nessuno lo ha scritto nei commenti e quindi se non riusciamo a sapere chi è veramente il vincitore non è un qualcosa che può andare avanti, deve essere qualcosa che rimane a voi del canale, a voi iscritti e non a degli esterni che partecipano anche senza essere iscritti. Quindi questo contest cambierà, lo trasformerò in qualche altra cosa. Però andiamo a vedere un attimino, questa è l'immagine di quello che vi ho messo oggi ragazzi, quindi erano 20 domande alle quali si doveva rispondere e poi nelle striscette nere, come vedete, ogni blocco ha 5 quadratini e in ogni quadratino c'era un codice da mettere. Bene, adesso in questa nuova schermata andremo a vedere qual è la soluzione di tutto il game e quindi il codice che ne verrà fuori. Dopodiché vi farò vedere ovviamente anche la schermata del codice che ho comprato da Eneba, così vedete che è un codice ufficiale, vero, che esiste e quindi che non me lo sono inventato e che è un codice falso. Benissimo, ecco, dopo che avete visto quindi la schermata che vi ho fatto vedere e che ve la siete viste con calma e tranquillità, adesso quindi vi state dicendo quali sono quelle che avete vinto, quelle che avete azzeccato e quelle che avete sbagliato, ecco qui che vi do la prova finale del codice di Eneba, come vedete, ecco questa è la prova finale del codice di Eneba e in ultima prova andremo adesso a mettere noi stessi il codice all'interno di Epic e vedremo quello che succede. Ok, siamo nella schermata ragazzi e qui incominciamo a mettere il codice, quindi A-H-V-U-S-X-E-Y-D-D-O-M-O-D-O-S-O-R-A-C-D-C-O-M-O-V-S-9-2-E-L-T-R-8 come vedete al di sotto appare subito che il codice è già stato utilizzato, quindi come vi dicevo qualcuno ha vinto e non l'ha scritto nei commenti, ecco perché dico che questo tipo di contest ragazzi non mi appassiona più di tanto perché io voglio che i regali rimangano all'interno del canale, forse sono stato troppo precipitoso a creare un qualcosa del genere, pensavo che potesse essere bello e utile, forse è andato a qualcuno del nostro canale, qualche iscritto lo ha vinto ma non lo ha scritto all'interno dei commenti e quindi ragazzi per ora non lo sappiamo, però questo è il codice, è già stato utilizzato e io ragazzi non so che altro dirvi. Comunque un nuovo contest sta per arrivare, non vi preoccupate, i regali se lo sapete ci sono sempre e continuate a starmi sempre dietro. Ragazzi per ora vi saluto, vi do appuntamento al prossimo contest e al prossimo video che pubblicherò ovviamente domani mattina per quanto riguarda lo shop. Un abbraccione, un salutone, mi raccomando un bel mi piace, iscrivetevi e condividete il canale. Ciao 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 ciao!